Questa volta l'ottimo sistema di videosorveglianza ha permesso l'immediato riconoscimento sia del palo del Miano Salvatore da parte di uno degli operatori della squadra mobile di Arezzo e di arrestarlo materialmente il 30 di marzo sia le individuazioni successive fatte sempre da personale della squadra mobile del Cocola Salvatore. Una serie di elementi tutti concordanti ha messo sulla giusta pista gli agenti della squadra mobile di Arezzo che a distanza di pochi giorni è riuscita ad arrestare i due malviventi di origine catanese autori della rapina a mano armata alla sala Menis Slot di Campo di Marte ad Arezzo che si è consumata il 24 marzo scorso intorno alle 19. Il palo Salvatore Miano di 42 anni residente da tempo ad Arezzo originario di Catania è stato arrestato in centro fermato perché doveva scontare una pena di oltre tre anni per bancarotta fraudolenta. Da lui le indagini hanno portato a Catania dove due giorni fa gli agenti della squadra mobile del Posto hanno arrestato Salvatore Cocola, l'autore materiale della rapina. Determinanti le immagini delle telecamere di videosorveglianza interne al locale ma anche quelle di Campo di Marte che hanno immortalato i due alle 17 mentre facevano un sopralluogo e poi la rapina delle 19 con il palo fuori ad attendere e il Cocola in azione. La rapina è stata fatta in due zone differenti diciamo così la parte sovrastante, il piano superiore del locale dove ci sono gli uffici amministrativi e dove inizia l'azione criminosa dove il Cocola sale non visto dagli altri avventori del locale punta il fucile a Canemozza al proprietario del locale e si fa consegnare tutti i liquidi che aveva addosso circa 5-6 mila euro. Dopodiché facendosi seguire, spintonando il proprietario del locale sotto la minaccia di un fucile a Canemozza lo porta giù in un altro ufficetto che lui ha una stanza privata del locale della parte bassa del piano terra dove lui era convinto ci fosse questa cassettina verde di cui si parlava prima e si fa consegnare altre poche migliaia di euro che erano invece stipate in questo secondo posto. Un totale di circa 10 mila euro? Circa 10 mila euro, sì.